Proprio mentre il conflitto russo-ucraino ha raggiunto oggi il suo ventunesimo giorno e la guerra torna ad essere protagonista nelle nostre vite, rimbalzando tra i telegiornali, le radio e la carta stampata, le buone notizie, composte da una buona dose di patriottismo e di orgoglio per le persone che combattono e hanno combattuto per la nostra nazione, fortunatamente non smettono di arrivare. La giunta della città di Biella, infatti, accodandosi ad altri comuni piemontesi, ha deciso di aprire le porte della nostra comunità al generale Claudio Graziano, conferendo lui la cittadinanza onoraria e l'alto attestato e quindi offrendo un altro motivo a noi cittadini per sentirci orgogliosi di essere parte integrante di questa realtà. Formatosi all'Accademia di Emodena e alla Scuola di Applicazione di Torino, il curriculum del generale Graziano non passa di certo inosservato, essendo tuttora il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea e avendo all'attivo innumerevoli altri incarichi militari prestigiosi, tra cui il comando della Brigata Alpina Taurinense, tanto cara ai nostri alpini biellesi. Durante la cerimonia per il conferimento dei due attestati, che si terrà domani mattina alle ore 11 presso la Sala Consigliare di Palazzo Europa, il generale interverrà con un discorso legato alla situazione attuale in Europa, con un doveroso focus sulla guerra in corso. Anche noi di Retebiella saremo presenti a questo prestigioso evento per portare nelle vostre case, attraverso la diretta televisiva, l'orgoglio e l'onore di una cittadina nei confronti dei suoi militari.